Ciao a tutti e bentornati alla posta di RIP, RIP FAQ, questa rubrica in cui rispondo a domande che mi avete lasciato sui commenti o via mail e dalla cui risposta credo possano aggiovare più persone. La domanda a cui rispondiamo oggi è una domanda a cui ho ricevuto moltissime volte in una forma o nell'altra e che riguarda la scelta dell'università. Non parlo soltanto della famosa informatica contro ingegneria informatica, ma in generale Ciao, sono Pincopallino, ho X anni, mi conviene fare una magistrale in scienza della disoccupazione? Questo tipo di domande in genere rispondo talvolta un po' sgarbatamente, oppure le schippo, oppure dico Ma che ne so io, ma che vuoi che ne so? Provo a dare una risposta un po' più omnicomprensiva. Prendiamo come esempio il commento di Alessandro Alessandro, al quale ho anche risposto, adesso farò vedere anche la risposta. La risposta è un po' così, che però contiene un po' di verità che adesso andiamo ad elaborare. Ciao Mr. Rip, ti vorrei chiedere se trovi utile fare una magistrale in economia. Sono 25 anni, quasi 26, in università prestigiosa a Lombarda, ho iniziato tardi a studiare perché prima ho lavorato nel settore. Allora, vi faccio vedere la mia risposta. Sì la trovo utile, nel senso che in un mondo dove hai infinito tempo, infiniti soldi, o alternativamente potessero trasferirti tutto il sapere e darti una certificazione in un secondo, che ne so, con una pillola senza side effect, allora è sicuramente parito superior. Cioè, è meglio avercela che non avercela. L'unico caso in cui posso dirti sì, conviene, è quello in cui non c'è nessun costo associato. Nessun costo in termini di tempo, di soldi, nessun side effect, nessun costo associato. E in tutti gli altri casi dipende. Dipende e, come dico, per risponderti dovrei analizzare tutta la tua situazione personale. La scelta se fare o non fare l'università, quale università fare, è una scelta fortemente personale. I dati oggettivi a riguardo sono pochi. Gli unici dati oggettivi che si possono trovare, come mi consigliano i miei amici data scientist, che hanno da lavorare anche loro, sono, non so, i dati sull'employment. Ad esempio, quanta gente trova lavoro X anni dopo aver fatto una certa specializzazione. Però sono dati che a mio avviso lasciano il tempo che trovano. Primo perché sono estrapolazioni dal passato, secondo perché già li sappiamo dati a riguardo. Alcune facoltà, ovviamente, hanno dei numeri più alti, li sappiamo. E poi sono oggettivi, ma molto poco personalizzati. Cioè, la situazione sul fare uno specifico percorso di studi dipende da tanti di quei fattori personali che io qui non ho elencato alcuni. Ho messo intanto i tuoi obiettivi. Qual è l'obiettivo nel fare un certo percorso di studi? Trovare un lavoro, farti delle skill, fare del network, aumentare la carriera nel lavoro che stai già facendo. Lo fai da studente lavoratore o la fai soltanto a chi fermi per studiare? Lo fai a carico da tua famiglia? Hai vinto un'eredità? Sono tantissimi fattori. Secondo, quanto sei disposto a prendere e andare a vivere e lavorare all'estero? A studiare all'estero? Ci sono infiniti fattori. Ci sono infiniti fattori da prendere in considerazione. E anche dopo averli presi tutti in considerazione, aver fatto tutte le liste di pro e di contro del mondo, resta comunque un problema di design, non è un problema ingegneristico. In questo aiuta molto il libro Design in Your Life, che ho citato molto spesso, che ho letto, che trovo che sia molto molto interessante. Per aiutare questa decisione, quello che si può fare in genere è fare un po' di prototyping, cioè fare, assaggiare un po' quello di cui sto parlando. Ovviamente, come si traduce nel mondo universitario, accademico? Si traduce in vai ad ascoltare qualche lezione prima di iscriverti, oppure parla con persone che hanno fatto quel percorso, vedi nelle offerte di lavoro quanto è richiesto, guarda il piano di studi, vedi che esami ci stanno, vedi che professori ci stanno, vedi che libri vengono consigliati. Cioè, assaggia. Quello è una delle poche cose che puoi fare nei problemi di design, assaggiare. Secondo, dovrai comunque accettare che prenderei una decisione con tantissima incertezza. Quindi a un certo punto deve anche avere un peso il gut feeling. Cioè, vuoi fare questa cosa o non la vuoi fare? Molto spesso dei problemi decisionali, faccio A o faccio B, partono dalla premessa sbagliata. È la giusta domanda da farsi, cioè partiamo anche dal perché mi sono messo in testa di fare o non fare questo corso di laurea. Magari trovo delle motivazioni che non hanno niente a che fare con quello che io realmente voglio. Cioè, magari sto soddisfacendo i desideri dei genitori. Sto dicendo, non lo faccio perché in famiglia tutti si aspettano che io mi laurei. Oppure sto cercando di credere in qualcosa che non è più vero. Sto facendo ingegneria nucleare, anche se magari non ha molti sbocchi in questo attuale momento storico. Oppure delle facoltà che hanno delle professioni che sono in declino, per cui magari non ha molto senso. Ingegneria elettrica. È complicato. È complicato e queste scelte vengono poi fatte in età in cui uno non ha generalmente le idee ben chiare su cosa vuol fare da grande. In questo caso specifico parliamo di 25, quasi 26 anni. Non sei più uno sbarbatello per cui hai lavorato. E quindi l'università prestigiosa Lombarda potrebbe aver senso, potrebbe non aver senso. C'è una condizione molto personale da analizzare, con molto più dettaglio che un centinaio di caratteri che vedo qui. E quindi in generale ragazzi queste domande non fatemele, fatevele e cercate modi per ampliare il ventaglio degli strumenti in grado di darvi una risposta. Non è una persona a cui chiedi, posso fare questa facoltà? Ti dice sì o no? Non ha proprio senso. Più che altro vieni a chiedere, ehi tu che hai fatto quella facoltà 20 anni fa, 25 anni fa, qual è stata la tua esperienza? Cosa trovi di negativo, positivo? La consiglieresti a qualcuno che inizia adesso? Queste domande ha più senso fare. Non domande speculative se io, Giorgio, che ha fatto tutta un'altra cosa, se per me ha senso che tu faccia una magistrale in economia. Ok? Bene ragazzi, spero vi piaccia questo formato, ho intenzione di portarlo avanti, ho tantissime domande già salvate, a chi voglio rispondere, e continuerò a segnalarne altre, a prenderne altre come riferimento. Vedete che ogni tanto vedrò nella sezione commenti di YouTube, metterò degli hashtag ripfuck, non fatelo voi, se lo fate voi per ottenere la mia attenzione, non rispondo a quelle domande e cancello il commento, quindi non fatelo voi. Lo faccio io, se una domanda mi sembra interessante, aggiungo commento con il tag, così poi quando ricerco internamente i commenti so trovarle rapidamente. Perfetto ragazzi, ci vediamo presto, tornerò a breve, forse già domani sera, in live per tutti quanti voi. E dai, dai, dai!